Musica E oggi saremo la voce narrante di questo meraviglioso spettacolo, fatto di canti, esecuzioni strumentali, recite e balli. Ascolterete la canzone Arrivali Proffo di Rocco Ante. A presto, a presto, a presto. A presto, a presto, a presto. 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 A presto, a presto, a presto. A presto, a presto, a presto. A presto, a presto. A presto, a presto. A presto, a presto, a presto. A presto, a presto. A presto, a presto, a presto. 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 A presto. A presto, a presto. A presto, a presto. A presto. Prima di salutarci però vogliamo dire grazie alla nostra dirigente per il suo costante impegno affinché potessimo crescere in un ambiente sano e rispettoso. Grazie a tutti i nostri docenti per il loro istantabile ruolo di guida, grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo indimenticabile evento. Adesso vogliamo salutare tutti voi, Amanda saluterà in francese ed Elisabetta in spagnolo. Grazie a tutti i nostri amici. E per averlo strasmitito su passione con l'insegnanza. Sono proprio contenta che è concluso un percorso che è cominciato con alcuni dei nostri alunni ma con la maggior parte di essi da quando erano alla scuola dell'infanzia. E li trovo adesso grandi e insomma mi fa una certa convulsione da dirigente ma anche da genitore sapere che vanno via, che c'è una parte nuova del loro futuro. Spero abbiamo fatto il possibile per accompagnarli al meglio. Loro sono stati bravissimi in tutto. E' una bella scena che abbiamo visto a stasera. Quindi la scuola è importante, ma è importante il feeling che si fa a chiudere tra docenti e alunni. Siamo che tra due anni avremo una scuola che sarà modello per la provincia di Assetto, per cui mi affido a voi, al vostro senso di responsabilità. Vorrei ringraziare in questo momento, prima di passare la parola, tutti i docenti, il personale ATA e vorrei ringraziare Lina che chiamo qui per l'ospitalità. Ci troviamo insomma in una cornice insolita per noi. Io sono abituata a giocare in casa, mi ci trovo bene a giocare a casa mia. Però anche qui insomma la sento come casa, molti dei nostri verranno qui e quindi in parte sono già in quella che sarà la loro casa futura. Ringrazio Vina, ringrazio il sindaco e ringrazio anche i nostri collaboratori scolastici e i suoi collaboratori scolastici che in questi giorni di prove sono stati disponibili. Un saluto ai ceditori, ai nostri ragazzi. Io volevo parlare dell'emozione, però sono emozionato perché la scuola è quella. E che dire, buone vacanze a tutti. Crediamo che in questi anni, gli anni a venire, saranno per la scuola molto importanti. Perché noi abbiamo l'edilizio scolastico. Questa è un'altra storia, la lascio al sindaco. Ciao, ciao.